Ultimati i lavori di largo di giugno, Gradenigo e il verde in pochi anni cambierà il volto del piazzale. La presenza di aree verdi nel comprensore urbano è cruciale per la qualità della vita. Le città infatti sperimentano alcune problematiche ambientali tipiche di territori altamente urbanizzati, dalla congestione del traffico alla bassa qualità dell'aria, dall'inquinamento acustico alle isole di calore, dal dissesto idrologico all'assenza di biodiversità. In questo senso il verde urbano contrasta e midica tali fenomeni, abbassa la presenza di polveri sottili nell'aria, attenua il rumore e contrasta l'innalzamento delle temperature. E di questo parere Carlo Gradenigo, ex assessore al Comune Siracusa, presidente di Lealtà e Condivisione, che in virtù del completamento dei lavori in piazza A, esprime approvazione per la piantumazione di platani, giacarandi e brachiciton, ovvero delle tipologie di alberi monumentali a tratti tropicali della presenza possente e decorativa. È difficile trasformare una visione in realtà, chiosa Gradenigo, eppure è ciò che è stato possibile realizzare nel piazzale parcheggio davanti piazza A, dispugnando la sua grigia distesa di asfalto. Partendo dall'isola Marciapiede Centrale, il primo passo fu quello di convertire un ammasso di mattonelle di velte, tronchi di alberi mozzati e cartelloni pubblicitari pericolanti in una grande aiola di terra alberata. Il secondo, prosegue il presidente delle Lealtà e Condivisione, è poi stato eliminare le barriere architettoniche ed estendere l'alberatura e il sistema di recupero e accumulo delle acque piovane all'intero piazzale parcheggio. Un'operazione semplice che ha permesso di aumentare il drenaggio urbano dell'aria e portare i colori della natura in una landa desolata che in pochi anni si coprirà delle ampie e alte chiome verdi degli alberi. Azione che, grazie al bando del Ministero sul contrasto ai cambiamenti climatici, afferma l'ex assessore, verrà replicata nel piazzale parcheggio di Via Augusta e nell'area verde comunale di Via Van Vitelli, dove sono già in corso i lavori di impianto degli alberi, ai quali faranno seguito la sistemazione verde di Piazza Russello a Belvedere e del parcheggio Tersicola a Fontane Bianche. Un'opera, conclude Gradenigo, che va completandosi grazie al prezioso contributo degli uffici comunali, ai tecnici ed esperti coinvolti gratuitamente e al mandato dell'amministrazione che, a differenza di tante altre occasioni, non ha lasciato cadere nel vuoto il lavoro fatto.